E' appena terminata la partita del campionato junior tra Sele Sao Libertas Calcetto e San Biagio Monza che fa con Nelorenzo che intervista proprio compagno di squadra Ludovico autore oggi di una bella tripletta Complimenti Ludo per questa tripletta, adesso lascio un commento Siamo contenti per il primo punto del campionato speriamo di farne altri nelle prossime giornate Sono contento per i tre gol, ringrazio il mio compagno di squadra Luciano per i tre assist, ha fatto una buonissima partita e tutti gli altri compagni ricordando che siamo andati giù in sette comunque in difficoltà, con pochi uomini e speriamo alle prossime partite di fare altri punti e cercare di stare più in alto possibile campionato Forza Sele Sao, ci vediamo alle prossime Grazie Ludo, grazie Lorenzo, ci vediamo alle prossime partite Ciao a tutti, grazie a te Ed ora siamo con un giocatore del San Biagio qua con noi Mattia mentre vediamo i suoi gol e le altre azioni anche a lui chiediamo un commento su questa gara È stata una partita abbastanza combattuta noi il primo tempo abbiamo fatto comunque si sono portati avanti poi purtroppo siamo calati un po' verso la fine sia per stanchezza che per poca testa e ora comunque sono stati molto bravi a metterci sotto poi vabbè, sono riuscito a portarla a casa i tre punti erano quelli che ci servivano e niente, adesso siamo forse ancora terzi dipende cosa hanno fatto le prime due e puntiamo a vincere il campionato Grazie Mattia per l'intervista ci vediamo alle prossime partite Grazie a Puzzle World ci vediamo alle prossime Grazie a Puzzle World